Sindaco, l'area di Magnale di fronte al Teatro d'Annunzio torna a Nuova Vita grazie a questo giardino dunale. Sì, devo dire che noi sulle spiagge stiamo operando, oramai da quando ci siamo insediati, per trasformarle in giardini dunali. L'anno scorso abbiamo inaugurato la spiaggia di fronte a Violeopoldo Musi, che è uno spettacolo incredibile, apprezzata da tutti. Quest'anno abbiamo fatto lo stesso intervento a Porta Nuova con questa spiaggia che era da sempre abbandonata e che oggi è diventato veramente un giardino dunale, come era una volta e come dovrebbero essere tutte le nostre spiagge. Credo che stiamo dimostrando che il pubblico riesce a fare cose che in passato non si riusciva neanche ad immaginare. Mi auguro che queste spiagge siano l'esempio per come si devono fare le spiagge su tutta la costa pescarese, perché io spero che tutte le spiagge, anche quelle che oggi sono in concessione, possano tornare a vivere con molto verde, con le dune, ritagliare su ogni spazio in concessione queste situazioni che sono bellissime, molto apprezzate, soprattutto dal punto di vista ambientale, recuperano una tradizione, una cultura che era quella pescarese, delle dune, del paesaggio dunale che poi nel tempo è scomparso e che invece oggi sta ritornando prepotentemente sulle nostre spiagge con una bellezza incredibile, grazie a un'attività che noi poniamo in essere, anche con l'aiuto di privati che vogliono investire su Pescara per renderla più bella, più attraente, più vivibile. Questa è la cosa più bella, io mi auguro che ce ne siano tanti altri di privati che vogliano insieme al Comune muoversi per far sì che Pescara sia più bella. Tutte le nostre spiagge, quelle che stiamo organizzando, si basano tutte sull'inclusività. Noi vogliamo coinvolgere i disabili che lavorano su queste spiagge, perché per esempio alla spiaggia di Via Leopoldo Mulzi c'è una gestione che è fatta da un'associazione che cura i disabili e i ragazzi lavorano lì, è la cosa più bella che c'è, ritrovano uno spazio di vita, anche una ragione di essere in società attraverso il lavoro. Credo che sia veramente una cosa meravigliosa. A Pescara si fa, si può fare, si può fare dovunque. Noi a Pescara l'abbiamo fatto, quindi abbiamo messo insieme il verde, l'ambiente, la sostenibilità ambientale, ma anche l'inclusività di quelle persone che generalmente sono escluse dalla società e che invece attraverso il Comune ritrovano una ragione di vita. È bellissimo.